Clark, tutto bene? Stiamo per demolire un ospedale danneggiato dall'attacco di Sandman, ma le macerie rimaste stanno rallentando il lavoro dei tecnici. Se hai un attimo, le tue ragnatele ci farebbero comodo per tenere stabile l'edificio mentre finiscono. Assolutamente. Grazie, continueremo finché non arrivi. Spider-Man, qui! Ehi, capo! Eccoti, grazie. Abbiamo piazzato gli esplosivi in tutte le zone, eccetto l'ultima. I demolitori sono lì. Sono in quattro. Li troverò. Tenete le radio accese. E che nessuno tocchi quel detonatore. Un'ispezione con lo Spider-Bot sarà più rapida. È ora di rendere fiero il tuo Spider-Babino. Ok, io trovo le persone. Clark le tira fuori. Ma è... un robot! Ehi, sono Spider-Man. Ho comunicato la tua posizione ai soccorsi. Saranno qui a momenti. Andrà tutto bene. Spider-Man! Grazie. Clark, hai ricevuto le coordinate che ti ho mandato? I nostri stanno entrando. Grazie. È arrivato Spider-Man. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Aha... Ehm... ... ... ... ... ... Oh, no. Perciò è... Ma potrei provare un impulso esplosivo. Ehi! Sono bloccato! Aiuto! Resisti. Ora ti tiro fuori. Grazie. Ti salverà. I soccorsi sanno che sei qui e arriveranno presto. Andrà tutto per il meglio. Grazie. Grazie. Ehi, Clark. Stai per ricevere delle nuove coordinate. Ricevute. Partiremo quando avremo tirato fuori i roblezchi. Forza. Respira. Respira. Forse non si può passare. Si è qualcuno. La mia gamba. Che rosso! Ero fuori. Un attimo. Soccorsi in arrivo. Non muoviti. Tra poco ti tireranno fuori di qui. Ok. Grazie, Spider-Man. Devo salire. È il momento di mettere alla prova l'ultimo potenziamento. Se l'assicurazione non mi copre, giuro che... Clark, hai ricevuto l'ultima posizione che ho condiviso? Sono quasi arrivato. C'è solo un altro operaio dentro. Presto, Spider-Man! Ci perso io. Aiuto! Aiuto! Arrivo! Resisti! Dovrei essere in grado di tirarlo fuori. Sono toccato! Tiratemi fuori! Soccorsi in arrivo. Stai bene? Sto bene. Ma ho visto qualcuno più avanti prima. Giacca Viola. Aiutalo. Clark, ti ho appena inviato una posizione. Ma mi hanno detto che c'è qualcun altro intrappolato. Tu sei? Eppure non manca nessuno. Se trovi superstiti, ci pensiamo noi. Faccio io. Non c'è nessuno. Servirà qualche manovra. Abbiamo preso tutto il posizio. Se continuiamo a scavare, questo posto crollerà. La profezia dice che non moriremo oggi. Se vuoi essere seguace della fiaffa, inizia a fidarti di lui. Seguace della fiaffa. Se ne andremo appena sistemato il frattempo. Gli esplosivi elimineranno lui e tutte le prove in passione. Puccederanno qualcuno. Un attimo. Ho già affrontato questi tizi. Sono organizzati, oltre che fanatici. Ma decisamente è una setta. E l'intrusa che si nasconde qui in giro? Non riuscirà a fermarci tutti. Continua a cercare scorti. Presto ci serviranno. La fiamma è delusa. Ma cosa? Oh no. Non ho detto niente alla polizia. Non ho mai menzionato la fiamma. Volevo solo tirarmele fuori. Allora dovresti sapere che tutti ce ne andiamo come siamo arrivati. Soffrendo. Cosa? Via di qui! L'idolo di un distorco. La profezia. Onora la fiamma. Tutto brutto. Allora, qual è la mia profezia? Combattere per sempre. Morire in un crollo. Diventare un mostro ragno a sei braccia. Bruciare insieme al Gatring. Tutto pulito. Ah, ok. Non sottovalutare la profezia. Nessun altro ha sentito? Ehi, ragazzi. Possiamo proseguire fuori. Stiamo tutti bene? Oltre a me che vi ho messo al tappeto, ovviamente. Tu non sarai mai. Prendi il tuo posto tra gli indegni. Che da me! Ma chi siete voi? Gli unici degni di sopravvivere a quello che verrà. Finiamolo prima che arrivi la molinzina. Sono sicuro che prima ancora crollerà l'edificio. Credo di essere degno? La fiamma brucia in eterno. Grazie. E tu saresti... Eccoti qui. Ehi! Non hai mai voluto che fumassi? Yuri. I criminali mi chiamano Raid. Perché sono come uno spettro per loro. Ho approvato... Dov'eri finita? Non c'è tempo. È loro! Hanno fatto una scelta! Dovrò battere il mio record. Visto, non era impossibile. Yuri è affilata via. Credevo che avesse bisogno di tempo dopo la storia di Ammeret. Ma tornaremo con un costume e un nome come Raid. Devo tenerla d'occhio. E tenere l'altro occhio fisso su questi fanatici. Mi servono più occhi. Ehi, Yuri! Ho localizzato i seguaci della fiamma in una vecchia clinica di Chinatown. Andiamo insieme. Potrebbe esserci il loro cavo. Puoi andare lì e fare una strage? No, se non mi costringono. Ascolta, quella setta deve essere fermata. Puoi venire ad aiutarmi, ma non sentirti obbligato. Se ci andassi, potrei tenerla d'occhio. È entrata qui dentro? Non credo. Come funziona questa storia? Si fa squadra insieme o... Da quanto segui questi tizi? Da qualche tempo avevo sentito voci. Lasciano scie di cadaveri. E pensano solo... Allora Scarlatta. Qualunque cosa sia. Un localino zozzo a Hell's Kitchen? Wow, è venuta... È venuta fuori male. Chi parlerebbe così? Non io. Non dovremo attendere a noi. Non se l'aspettavano. Come facciamo a riconoscere chi tra loro è il capo? Questi tizi non vanno per il sottile. Diamo un'occhiata in giro. Si stanno attrezzando? Ma per cosa? So che hanno cercato di rubare scorte all'ospedale. E' il tizio che voleva lasciare la setta. Se è furbo, avrà lasciato lo stato. Salve, passiamo da qui. Non credo che siano qui da molto. Un mese al massimo. Stendiamo i membri della setta e proseguiamo. Ci sto. Ehi. È passato quanto? Un anno e mezzo? Da come te la sei passata? Risparmiati le chiacchiere inutili. Siamo qui in missione. L'idolo del personale. Come fai a sapere che è Spider-Man? Perché la fiabba ne è certa. Si è mai sbagliato prima? Se sei in preda ai tuoi, allora ti consiglio di bruciarmi. Noi pretendiamo fiducia assoluta. Non sono chiacchiere inutili. Ero in pensiero per te. Sto bene. Rimango. Mi piace. Superficiale. Va tutto bene, Dio. Ancora nessun segno del loro capo. Andiamo. È chiusa. E forzarla farà solo scattare l'allarme. Non servono chiavi. Deve esserci un modo per aprirla qui intorno. Sembra che i novizi vengano abbinati al reclutamento. Un buon modo per tenerli d'occhio. L'assetta usa i tatuaggi per indicare il rango degli adepti. E sono sempre abbinati al letto del reclutamento. Aspetta, ho un'idea. Vuoi condividerla con la classe? Guarda e basta. Ho capito. La porta si apre solo quando rileva due tatuaggi abbinati. Ecco il mio. Chi hai visto con un tatuaggio di Efesto? E questa è una cosa buona o cattiva? E come fa a sembrarti buona? Ti prego non svegliarti. E... non è il tatuaggio che mi serve. Ottimo. Ecco fatto. La seconda volta è quella giusta. Allora... Hai qualche tatuaggio? Solo uno con la lapide di Spider-Cop. Dio, davvero. Si scappi un'altra volta. Non sarà così clemente. Onora la fiamma. Poiché tutto brucia. Poiché tutto brucia. Sentito qualcosa di familiare? Spaccone. Ora pensiamo ai prigionieri. Ti tireremo fuori. I comandi della porta sono nella stanza più avanti. Quanti adepti ci sono lì dentro? Io... non lo so. Parecchi. Ti porteremo fuori appena possibile. Ti prego. Non dovrei neanche essere qui. Riusciremo a salvarti. Se la fiamma vorrà. Ehi, tutto ok lì dentro? Ehi! Siamo qui per te. Non urlare! I comandi sono nella stanza accanto. Se passiamo dalle porte, qualcuno ci vedrà. Se questi sono i seguaci della fiamma, quello che parla è la fiamma in persona. Non credo. È ancora degno. Spogliamoci di ogni dubbio mentre onoriamo il passaggio di questo ardente. da Tifone a Efesto. Va tutto bene? Sembra un po'... Sto bene. Bene così. Non è più una scorta. La vera natura. Cos'è successo? Poiché d'ora innanzi, il resto del mondo non potrà farti alcun mare. Non c'è altro. Uscire dalla stanza. Speriamo che non ci sia solo il salvaschermo. Il marchio è spada e scudo insieme. Sarà la tua prima di trono e agente... Alza, che la fiamma ti dirà. Qua... Ehi! È arrivato l'idolo degli stonti! Sarà divertente! Dove se... Vai! Ancora quello Spider-Man. Aspettavo questo momento. Ehi! La fiamma ti vuole... Vieni fuori. Non tiriamola per le lunghe. Cosa ci fai lì, Spider-Man? Un regalo della fiamma! Vedi i comandi di apertura? Non sono sicura. I cavi delle celle conducono qui. Avanti! I nostri incontri dovrebbero essere diversi, Yuri. e saranno tutti che cerchi di uccidermi. È incredibile. Sei di nuovo riuscito a raggirare qualcuno con le tue idiozie. L'amore non è un raggiro. Questo non è amore. Io ho dato il mio sostegno là dove imperava il nulla. Dubito che tu... O l'idolo degli stolti... Avreste fatto lo stesso. Ma in che modo posso convincere voi due ad amarmi? Dimmi cosa nascondete. Lo spiego subito. È il vecchio ospedale a nord di Astoria. Dovreste provare ad andare là. Se soltanto ne foste degni. Quindi hai sempre saputo chi era la fiamma? No. Lo sospettavo, ma non ero sicura finché non l'ho visto. Apro il fuoco! Come vi conoscete, voi due? Guidava un altro gruppo quando ero in polizia. Li ho fermati, ma lui è scappato. La fiamma non è qui. Dobbiamo dargli la caccia. Prima dobbiamo liberare i prigionieri. Oh, ciao! Guardate! È l'idolo! È sopra di noi! Com'è andato il suo incontro con la fiamma? Lui l'ha prestato. Io no, invece. Saliamo di sopra. Altri seguaci dietro la porta di sopra. È l'unica via d'uscita. Aspetta qui. Noi andiamo in avanscoperta. Pensi tu alla porta? Sì, dai. Eccolo! Ok, partiamo dall'inizio. Come fa a sapere chi sei? La mia voce. Quando gli dava la caccia con la polizia, lui inizia. Si divertiva. Ha scoperto che ero per prendersi gioco di me. Hai paura di scienze? Che altro sai su di lui? Il suo gruppo precedente. Quando stavamo per catturarlo, ha detto loro che era arrivato il momento. Quindi ha uccisi tutti per non farli parlare. E loro erano d'accordo. Sei un mostro. È la prima volta che lo vedi dal giorno della sua fuga. Gli ho dato la caccia per scusa. Ma c'erano sempre altri casi a rallentare. Eppure sapendo che era vicino. E i seguaci della fiamma sono come il suo vecchio gruppo? Il vecchio gruppo era piccolo. E cauto. Mentre questa gente... Sono un'armata mossa da una fiducia cieca. Fatto. Liberiamo queste persone. L'ospedale non è troppo distante. Sì, ma no. Yuri! È la trappola più ovvia che abbia mai visto! E ho affrontato Trapster! Non possiamo aspettare. Tu non lo conosci. Ma so che finiremo ammazzati se ci lanciamo lì dentro a testa bassa. Ci serve un piano. Darò un'occhiata all'ospedale per valutare la situazione. Contento? Sì, diciamo di sì. Diciamo anche sempre meglio di niente.